Il ricordo dell'olocausto e l'impegno per la pace fra israeliani e palestinesi si fondono nell'opera di Noah. La star israeliana è tornata in Calabria per visitare Tarsia, campo di internamento dove transitarono circa 4.000 ebrei italiani. Visita il Museo Internazionale della Memoria Ferramonti della Cittadina con il sindaco Roberto Ameruso in attesa del concerto serale a Cosenza. Tarsia, il più grande dei campi creati in Italia dal fascismo dopo l'entrata in guerra, liberato dagli inglesi nel 1943, luogo simbolico per Noah. Per me è un simbolo, simbolo della possibilità di cambiare la tragedia del passato e per le speranze del futuro. è una cosa bellissima. Per me io sento in questo momento un grande ottimismo. Io amo molto questa sciarpa, sciarpa bellissima e grande, creare delle donne, tutte donne, tutte donne. È molto simile ad una sciarpa che noi abbiamo in Israele, è una creazione di molte donne israeliane e palestinesi, una sciarpa simile esattamente. Quasi 50 metri di mattonelle all'uncinetto, la sciarpa della pace è stata realizzata dall'Associazione Nonni di Calabria che l'hanno dedicata al giorno della memoria della Shoah. Noah ama l'Italia, tornerà a fine maggio in concerto a Verona e la sua musica vuole essere il veicolo per il rispetto e l'amore fra le persone e fra i popoli. Anche in questo mondo dove tutto è basso e niente, io lavoro di più, fare la musica? Più alto che può, per una preghiera per il Dio della musica. Io sono il servente umile della musica. In la presenza della musica e dell'arte noi sentiamo piccolo. È un posto fantastico per fare la pace. E la Calabria, le piace la Calabria? Ah sì, non è la prima volta qui in Calabria, bella parte d'Italia, gente fantastica. La bellezza della terra, anche qui quando noi viagiamo tre ore tra il paese, bellissimo le montagne, la primavera, il mare bellissimo. Che gioia essere qui. Grazie. Grazie.